Come possiamo sembrare meno respingenti? E qua la domanda è sbagliata, perché noi non dobbiamo sembrare meno respingenti, dobbiamo essere meno respingenti, che sono due cose molto diverse. Innanzitutto che cosa vuol dire essere respingenti? Noi siamo respingenti quando nelle persone quello che ispiriamo, stimoliamo è un senso di rifiuto, facciamo sentire le persone come rifiutate, allontanate, non gradite e quindi risultiamo appunto respingenti, come se fisicamente respingessimo, allontanassimo le persone. Questa è la sensazione che hanno le persone quando si avvicinano a qualcuno che è respingente. In maniera controintuitiva le persone respingenti nella maggior parte dei casi, non sto dicendo che siano tutti i casi, ma nella maggior parte dei casi lo sono perché hanno delle paure o delle insicurezze. Certo ci sono anche persone respingenti perché si sentono migliori di tutti e non vogliono stare con nessuno, ma sono casi veramente rari. Nella maggior parte quello che accade è che queste persone hanno paura, non si sentono all'altezza, non si sentono adeguate oppure hanno paura di soffrire. Potete immaginare ad esempio una persona che sia stata tradita o sia appena uscita da una relazione tossica o abbia subito un qualche tipo di violenza che abbia paura a intraprendere non soltanto una nuova relazione, ma addirittura una semplice conoscenza, anche semplicemente una amicizia e questa cosa all'esterno traspare. Quindi io vi potrei consigliare decine, centinaia di tecniche per sembrare meno respingenti, ma questo non risolverebbe il problema perché sul medio o lungo periodo le persone si rendono conto di questo e si sentono rifiutate e quindi a un certo punto si allontanano. Al contrario un modo davvero efficace per smettere di essere respingenti è quello di lavorare sulle proprie ferite profonde. Ecco perché vi consiglio il corso le 5 ferite dell'anima perché nel momento in cui voi vi siete sentite tradite, vi siete sentite umiliate, vi siete sentite abbandonate, respinte, è chiaro che riversiate, non sto giustificando, sto spiegando, è chiaro che riversiate questi sentimenti sugli altri perché ovviamente avete delle paure e le paure sono giustificate perché evidentemente è accaduto qualcosa nella nostra vita o insomma abbiamo vissuto delle esperienze che ci hanno portato a vivere queste emozioni ed è quello ciò su cui dobbiamo lavorare. Dobbiamo lavorare sulle nostre ferite di base, le cosiddette ferite dell'anima in maniera tale da poterle guarire e anziché indossare una maschera, quello che accade quando abbiamo delle ferite, toglierci la maschera non avendo più paura del fatto che gli altri possano farci del male.